Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Riforniva di droga i ragazzini sul lungomare di Fano, arrestato un marocchino Polemica a non finire per il concerto annullato a causa della musica troppo alta e ora ci si domanda se Fano potrà mai diventare una città turistica Mi ha discresciuto moltissimo per una famiglia di persone, una famiglia non giovanissima ma che mi hanno aggredito purtroppo verbalmente che avevano fatto 200 km per venire ad assistere a questo concerto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Ben ritrovati cari telespettatori, benvenuti Allora cominciamo subito dalla cronaca e cominciamo dall'arresto di un marocchino che riforniva di cocaina, di droga i giovanissimi sul lungomare di Fano Aveva posto le basi per una fiorente attività di spaccio e la droga era destinata soprattutto a giovani e giovanissimi della zona Il pusher finito nei guai a un marocchino di 43 anni, regolare sul territorio nazionale di Morante a Fano L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato dopo essere stato trovato in possesso di un panito di hashish dal quale avrebbe potuto ricavare almeno 400 dosi con un ricavo di circa 4.000 euro I suoi movimenti infatti non sono passati inosservati ai poliziotti che durante l'ultima settimana hanno intensificato i servizi di controllo e di vigilanza in città con agenti sia in divisa che in borghese e nella zona sud di Viale Adriatico hanno notato che il 43enne all'apparenza nord-africano avvicinava i ragazzi anche minorenni poi nel tardo pomeriggio si spostava verso la spiaggia mentre nelle ore serali si muoveva con le stesse modalità nella zona del Luna Park Nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti ritenendo che i movimenti sospetti potessero ricondursi ad un traffico di stupefacenti in atto hanno deciso di procedere ad un controllo dello straniero alla vista degli agenti il marrucchino ha tentato la fuga a piedi ma in breve tempo è stato raggiunto e bloccato l'uomo già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio condotto in giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale di Pesaro è stato condannato a 10 mesi di detenzione al pagamento di una multa di 2.000 euro e a Fano divampano le polemiche per la decisione degli organizzatori di annullare l'ultimo concerto in programma domenica sera allo Sport Park di Fano il problema? La musica troppo alta tutti i particolari nel servizio di Simona Zonghetti abbiamo preferito annullare tutto piuttosto che rischiare una multa o chissà quali altre conseguenze a questo punto sono iniziate le operazioni di smontaggio nell'area antistante lo Sport Park di Fano dopo una settimana ricca di cibo, musica e intrattenimento certo il Mac Beer Festival poteva terminare con la ciliegina sulla torta visto che per domenica sera era atteso il concerto dei Pink Sonic con un tributo ai Pink Floyd e invece l'organizzazione che ha investito soldi propri nell'evento ha deciso all'ultimo di annullare tutto e sì perché dopo un sopralluogo dell'ARPAM il funzionario Brunori ha firmato un'ordinanza con la quale sono stati ridotti i decibel consentiti da 70 a 65 questi se superati avrebbero comportato un verbale e quindi nessuno se l'è sentita di rischiare anche perché, come dicono i componenti dello staff svolgere un concerto con questi limiti è praticamente impossibile rimane l'amaressa per quello che abbiamo fatto per l'investimento fatto, per il lavoro fatto perché comunque come vedete c'è stato un allestimento proprio di tutta la struttura abbiamo cercato di far trovare una situazione bella all'era, addobbata bene abbiamo lavorato per dieci giorni per preparare il tutto e quindi noi eravamo già pronti purtroppo è andata così L'organizzatore ci tiene a precisare che i concerti sono sempre terminati entro mezzanotte e un quarto compreso sabato sera ma evidentemente non tutti i residenti della zona hanno gradito le esibizioni visti gli esposti e le lamentele avanzati in comune è stata comunque una bellissima festa rivolta a persone di tutte le età ci sono state tantissime famiglie nonni, nonne, ragazzi non c'è stato nessun tipo di disordine non è mai intervenuta nessuna forza dell'ordine non c'è stato un bicchiere di vetro rotto per terra insomma questo la disse lunga anche venerdì sera che era la serata un po' più movimentata forse visto il concerto degli SIDC ha portato tantissimi ragazzi è stata comunque una serata bella, pulita e piena di gente che ha avuto voglia di divertirsi la decisione di annullare l'iniziativa venuta poche ore dal concerto è andata anche a discapito di persone provenienti da fuori regione che si sono presentate allo sport park ignare del provvedimento ho preso un po' le critiche e le arrabbiature di tutti perché comunque se la sono presi tutta tutti con me mi ha dispiassuto moltissimo per una famiglia di persone una famiglia insomma non giovanissima ma che mi hanno aggredito purtroppo verbalmente che avevano fatto 200 chilometri per venire ad assistere a questo concerto oltre appunto l'amarezza che già avevo e la malinconia c'è stato anche questo episodio che è stato probabilmente più eclatante però tantissime tantissime persone che si sono lamentate perché non c'era il concerto e polemiche che stanno interessando anche la politica l'opposizione con Alberto Santorelli vediamo Fano e Pesaro oggi trova le differenze è il post pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di progetto Fano Alberto Santorelli che con due foto sulle relative città ha messo in evidenza le divergenze mentre allo sport park si annullava un concerto a Pesaro ballavano i migliaia sulla spiaggia siamo seduti e abbandonati dall'amministrazione comunale ha scritto in una nota a Santorelli quando è ora di agire mettono il bavaglio a chi vuole fare musica infatti prosegue la commissione di vigilanza presieduta da un assessore delegato dal sindaco non ha concesso le deroghe di decibel necessarie per svolgere il concerto di ieri sera sto già scrivendo un'interrogazione ha concluso il consigliere d'opposizione sarò curioso di vedere cosa risponderanno questa volta in consiglio comunale sapendo che ho ricoperto il ruolo di presidente della commissione di vigilanza per quattro anni e non è mai avvenuta una cosa simile è scandaloso quello che è successo stiamo parlando di un'iniziativa dove il privato ha investito importanti somme per portare a Fano tanta gente, tanti turisti e per fare intrattenimento in una settimana come quella di luglio e l'ha fatto concordandolo anche con l'amministrazione comunale e qui veramente viene fuori tutta l'incapacità di questa amministrazione comunale che non è stata in grado di garantire le deroghe necessarie per i decibel quindi per far suonare la musica e ha permesso a un privato, un cittadino quindi di, chiamando l'ARPAM poi di vedersi costretta a interrompere il permesso perché erano stati sforati i decibel consentiti ma quei decibel evidenti che non sono non sono sufficienti per concerti di questo tipo andava fatta un'altra deroga ma come è già avvenuto durante la scorsa estate anche questa volta l'amministrazione ha deciso di mettere il bavaglio a chi vuole fare della musica e l'assessore Carla Cecchettelli che è anche presidente della commissione di vigilanza cerca di gettare acqua sul fuoco non è la commissione di vigilanza a dover concedere le deroghe con queste parole l'assessore alle attività economiche produttive Carla Cecchettelli precisa le competenze della commissione da lei presieduta replicando alle critiche avanzate dal consigliere Santorelli in una nota inoltre il sindaco Seri precisa che l'amministrazione ha concesso il patrocinio e la deroga per i decibel con apposita ordinanza ma venerdì sera ARPAM ha compiuto il rilevamento dell'inquinamento acustico nelle abitazioni vicine all'area degli eventi musicali e ha constatato che il limite è stato superato quindi è stata revocata la deroga precedentemente concessa il comune si dice comunque pronto a collaborare fin da ora per migliorare insieme agli organizzatori un evento che potrebbe essere inserito nel calendario delle manifestazioni estive fanesi trovandosi a dover rispettare determinati decibel che nonostante tutto noi quest'anno abbiamo dato anche delle deroga nelle varie zone Lido, Sassogna, Centro e quindi da rispettare l'ordinanza che è la deroga acustica che è stata data dall'ufficio ambiente e quindi se dopo per loro non erano sufficienti ecco, noi non possiamo andare oltre penso a quello che abbiamo già derogato rispetto agli anni passati Cechetelli ha poi precisato che il comune sta lavorando per cercare un luogo idoneo non vicino ai centri abitati in cui realizzare un'area polivalente fra le ipotesi rientra anche la zona di Chiaruccia e l'aeroporto infatti, viste le numerose richieste pervenute da cittadini e organizzatori di eventi c'è la necessità di individuare una nuova struttura dove poter organizzare concerti, feste e manifestazioni di vario genere l'area inoltre rimarrebbe a disposizione anche della protezione civile in caso di emergenze come calamità naturali serve anche per gli spettacoli viaggianti perché ogni anno ci si ripropone il problema del circo la giostra questi spettacoli itineranti che abbiamo sempre difficoltà dove a collocarli perché l'unico posto è la pista Dego Car ma anche lì c'è l'amministrazione ha un progetto sopra di riqualificazione dell'area della strada delle barche e quindi prima o poi quell'area non sarà più disponibile certamente quest'area deve essere bisogna fare degli investimenti perché necessitano dei sottoservizi impianti elettrici acquedotto, fogne ecco quindi cercare di individuare un'area dove ha questi servizi oppure minimi indispensabili insomma per poterla adibire con costi sicuramente contenuti La Guardia Costiera di Pesaro ha scongiurato ieri un possibile inquinamento del mare da idrocarburi dopo che un motopesca ormeggiato lungo la banchina incalata a Caio Duilio del Porto è semiaffondato per una falla nello scafo è subito scattato il piano locale antinquinamento della Capitaneria di Porto e l'imbarcazione è stata circondata da panne galleggianti messe in opera dalla Protezione Civile di Fano che è stata attivata dalla Sala Operativa Regionale alle operazioni ha partecipato anche una squadra di sommozzatori del Comitato di Pesaro della Croce Rossa Italiana nel corso della mattinata il prefetto di Pesaro e Urbino Luigi Pizzi ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica fra i vari argomenti trattati si è parlato della sosta selvaggia dei veicoli sul tratto di strada della Statale 16 Adriatica tra Pesaro e Fano per risolvere il problema verrà migliorato l'impianto di illuminazione realizzati ulteriori passaggi pedonali in accordo con ANAS e verranno posizionate alcune strutture fisse per evitare il parcheggio nelle banchine sul lato mare i comuni di Pesaro e di Fano dal canto loro si sono impegnati ad aumentare i servizi di autobus navetta verso la zona litoranea e oggi pomeriggio sono stati nominati quattro nuovi consiglieri nella fondazione Cassa di Risparmio di Fano vediamo subito i loro nomi con l'aiuto della grafica la riconferma di Laura Bricca poi nuovi entrati Paolo Maria Battistini Claudio Giardini e Francesco Mei poi sempre il consiglio generale della fondazione sempre nella seduta di oggi ha proceduto in prima votazione alla nomina del consigliere generale Giuliano Lucarini e adesso andiamo a Mondolfo dove la giunta del sindaco Barbieri si è ridotta le indennità il risparmio che ammonta 900 euro mensili consente di accantonare in un anno un tesoretto di circa 11.000 euro a questa cifra si aggiungono altri 1.400 euro che erano spesi per l'acquisto di quotidiani a cui si è rimediato con abbonamenti online mantenendo comunque il servizio di rassegna stampa per amministratori e consiglieri comunali adesso parliamo di art bonus questa mattina gli assessori mascarin e marchegiani hanno illustrato i progetti culturali che potranno essere finanziati dai privati in cambio di sgravi fiscali il ministeriale denominato art bonus i privati potranno contribuire a restaure e alla conservazione di beni culturali fanesi i progetti illustrati dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani dall'assessore alle biblioteche Samuele Mascarin potranno essere finanziati dai privati e andranno a favore della biblioteca federiciana e della mediateca montanari le proposte che anche quest'anno sono dieci comprendono due restauri quattro digitalizzazioni due interventi per attrezzature acquisto di libri e materiali multimediali nonché servizi tra questi l'iniziativa Nati per leggere e l'acquisto di un apparato acustico per poter suonare il piano presente all'ingresso della Memo senza disturbare il lettore e gli ospiti della struttura il costo totale degli interventi è di 24.700 euro insieme al Comune di Iesi siamo stati i tre primi a proporre il progetto dell'Art Bonus che è questa buona idea che ha avuto il Ministro Franceschini di sollecitare il mecenattismo a sostegno delle attività delle istituzioni culturali pubbliche con uno sgavio fiscale per chi contribuisce del 65% quindi molto importante l'anno scorso abbiamo proposto dieci progetti per quanto riguarda la Biblioteca Fidericiana e la Mediateca Montanari che sono stati interamente finanziati per circa 22.000 euro ed è stato uno dei risultati più significativi anche a livello nazionale tanto è vero che anche la stampa nazionale insomma si è interessata a questa esperienza fanese è un intervento importante che ha anche un forte valore civile perché oltre a garantire e migliorare la qualità di alcuni servizi si dà la possibilità ai cittadini alle imprese ai privati di poter compartecipare alla salvaguardia alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e anche degli spazi che lo ospitano e lo fanno vivere in conferenza stampa il direttore della Biblioteca Fidericiana Danilo Carbonari ha mostrato questo video ingranditore acquistato grazie all'Art Bonus che sarà a disposizione del pubblico lo strumento è in grado di agevolare la lettura degli studiosi perché permette di vedere le scritture nel dettaglio per chi volesse avere contatti e informazioni potrà trovare tutti i dettagli nel sito del comune di Fano nella home page si dovrà cliccare su Art Bonus per Fano e all'interno sarà possibile controllare anche la fase di avanzamento dei contributi per avere un riscontro del proprio investimento a questi interventi si aggiungono poi i progetti dell'assessorato alla cultura fra quelli più importanti finanziati lo scorso anno c'è il restauro da parte del Lions Club dell'annunciazione il dipinto di Guidoreni oltre a confermare le opere del primo pacchetto che stanno avendo una massima diffusione nella sensibilità locale abbiamo inserito due opere molto belle che stanno dentro San Pietro in Valle per esempio il Fondo per l'Ambiente Italiano delegazione di Pesaro Urbino ha attivato una raccolta fondi per il restauro della copia della consegna delle chiavi di Guidoreni che è la pala che è l'unica pala che è rimasta a San Pietro in Valle all'interno della tale maggiore unitamente a questo abbiamo segnalato un bellissimo crocifisso ligno della Cappella Marcolini la terza per chi entra sulla destra è un crocifisso di fine 600 molto interessante per la postura di autore ignoto però di grande fattura e anche questa è una cifra abbordabile a tonno di 3.000 euro proseguono gli appuntamenti della rassegna dialettale alla BCC Arena di Fano questa sera alle ore 21.15 andrà in scena la compagnia El Brudet con lo spettacolo intitolato Do Daxi e prima di salutarci ci sono due segnalazioni che andiamo a vedere insieme la prima la prima riguarda alcuni atti vandalici che sono stati purtroppo messi a segno da un gruppo di ragazzini nella nottata di sabato negli stand della manifestazione della giostra dei quartieri che si è conclusa ieri a Lucrezia con la vittoria dei Santi e del Centro tra l'altro a pari merito in queste immagini si possono vedere alcuni teli squarciati e del materiale gettato a terra nonché scritte di ogni genere con bombolette spray la seconda segnalazione invece ci è arrivata nel pomeriggio e ci è stata inviata da alcuni bagnanti riguarda il ritrovamento di una tartaruga un ritrovamento che è avvenuto oggi pomeriggio qui siamo a Fano vicino ai bagni Calaverde e ci hanno inviato anche un filmato che adesso vi proponiamo allora ho trovato questa tartaruga agli scogli riva al mare tartaruga di acqua dolce e qualche rincoglionito l'ho lasciata lì nel mare ma come si dice qualche ignorante qualche ignorante l'ha lasciata lì e io ovviamente l'ho presa e l'ho messa in un sacchiello per salvarla e ecco tutto e quindi adesso in buone male dopo di noi Missione Salute la replica stasera si parlerà di naso e gola mentre le nuove puntate vi ricordo la nuova serie di Missione Salute andrà in onda durante la prossima stagione quella autunno-inverno dunque partiremo verso la fine di settembre il telegiornale è finito grazie per averci seguito buona serata a tutti Grazie a tutti